Ma senz'altro sarà una bellissima emozione, penso che sia anche il coronamento di questi cinque anni di lavoro insieme a questo gruppo meraviglioso. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, quanto è stato lungo e difficile, però vogliamo fare una partita che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere. Sappiamo che affrontiamo una squadra quasi ingiocabile, però abbiamo visto anche in passato che partite dove ci davano ampiamente sfavoriti ce le siamo giocate nel migliore dei modi.